Ciao a tutti i fan della pagina Facebook dell'OrtoDio, ciao a tutti gli iscritti al canale YouTube Stefano Maggi OrtoDio. Ci troviamo all'OrtoDio, la macchinuccia sta ricaricando, la macchinuccia elettrica sta ricaricando, col sole, che c'è un po' di sole. Ma vi volevo dire un'altra cosa, la primavera finalmente è arrivata, dopo le avvisaglie dei primi asparagi, poi anche i piselli, poi anche le fave, adesso è pronta finalmente la prima frutta. Sono pronte le nespole, che purtroppo non vi posso far vedere che qui all'OrtoDio non ce l'abbiamo, però c'è un bell'albero a casa di mio padre, qui a Borgo Quinzio è pieno di nespole e cominciano a essere pronte. Ma abbiamo anche già il frutto successivo, ossia le fragole e fragoline. Guardate qui, guardate qui cosa abbiamo, fragoline che stanno maturando, tante belle fragoline che stanno maturando, vedete? Di varie varietà, più grandi, più piccole, guardate questa quanta è piccola, una fragolina nana, vedete? Queste sono belle più cicciotte, devo combattere con le formiche per non farmele mangiare, guardate questa che bella, guardate anche questa qui sotto, questa, queste qui e quindi stanno per arrivare anche le ciliegie, stanno per essere pronte e poi entro breve arriveranno le albicocche, le pesche, le prugne e chi più ne ha più ne metta. La primavera finalmente è arrivata e sono molto felice di questo, spero anche voi, vi mando un saluto e un abbraccio come al solito dall'OrtoDio. Ciao! 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 Ciao!